Il Comitato non si ferma neanche durante questo agosto bollente, vanno avanti insomma le vostre attività ma soprattutto va avanti il vostro messaggio. Così come da tre anni, a nome e lo abbiamo promesso agli oltre 8.000 pendolari firmatari della petizione Stazione Alta Velocità Rezzo, ma anche a tutti quei portatori di interessi, studenti, persone che si spostano tra la capitale economica e quella politica ogni giorno per motivi di lavoro e non soltanto per i turisti. Lo abbiamo promesso alle vallate aretine, non ci fermeremo perché restiamo abbondantemente convinti che questa ingiustizia, lì dove venisse consumata ai danni del comune capoluogo aretino con i suoi più interni e quindi svantaggiati territori arrecherebbe un documento irreversibile. Non ce lo possiamo permettere da tre anni, diciamo anche durante la pandemia e nella economia di guerra, che specialmente le piccole imprese stanno chiudendo e hanno bisogno di risposte concrete. E chiediamo ancora una volta a tutta la politica di non lasciare solo chi sta impegnandosi ogni giorno nel bel mezzo di tante difficoltà incontrate a mantenere in vita i territori. Altrimenti le frazioni si spopolieranno sempre di più, le città diventeranno dormitori e i giovani saranno costretti ad andarsene anziché a restare per converso collegati con il resto d'Italia ed Europa e anche per motivi di studio raggiungere in giornata come accadrebbe lì dove venisse realizzata una stazione sull'alta velocità. Ecco l'ipotesi Creti però insomma sembrerebbe molto accreditata anche sui tavoli ministeriali. Se questo dovesse accadere che cosa farete? Noi continueremo a sensibilizzare tutta la politica regionale, nazionale, locale e anche sovranazionale. Sono in programma alcuni incontri con autorevoli e nuovi protagonisti della politica europea. Li comunicheremo di volta in volta perché non siamo abituati a vendere chiacchiere. Siamo tutti lavoratori, professionisti, studenti e appassionati della nostra città. Non domandiamo poltrone e neanche interessenze. Ma sicuramente non staremo con le braccia concerte a guardare qui 276 treni che occupano 82 chilometri di infrastruttura direttissima la quale senza prestare un servizio alla città di Arezzo che l'ha ospitata negli anni 90 è destinata all'oblio. Se prendesse corpo la promessa elettorale del ministro Salvini e della governatrice Teseia alla quale abbiamo chiesto 11 volte un incontro, un confronto e un'analisi per comprendere i motivi di questa scelta che definiamo ancora una volta scriteriata, capricciosa e dannosa perché escludente tutta la provincia retina.